Ciao ciao a tutti bentornati! Allora, in questo video voglio parlarvi, l'avete letto, di Ascolta o muori, di Karen Sander. È il secondo libro della serie con il Detective Sadler e la psicologa criminale Elisabeth Montario. L'ho già finito in realtà un paio di giorni fa e sono agli sgoccioli anche in realtà del terzo capitolo. Ma ho tempo solo ora di girare questo video. Allora, in questo secondo episodio della serie, innanzitutto mi è piaciuto tantissimo, più del primo probabilmente. Non so se perché ero già in empatia con i personaggi, sto scivolando, se perché ero già in empatia con i personaggi o se proprio l'indagine in sé mi ha elettrizzata molto di più. Cosa succede in questo capitolo? E il commissario riceve un giorno per posta, in una busta imbottita, un dito mozzato. Si chiede... scusa? E questo? Nel frattempo la squadra ha iniziato ad indagare su un altro omicidio e a questo ragazzo, di questo hanno trovato questo cadavere, a questo ragazzo manca un dito. Ma non è quello ricevuto nella busta. E da qui parte tutte le varie vicende e vanno a richiedere la consulenza di nuovo di Elizabeth. Bellissimo, mi è piaciuto. Ci sono delle scene, delle situazioni al cardiopalma. Allora, una cosa che non vi avevo detto, mi pare, anche nella recensione del primo libro è che le vicende sono alcune volte un pochino crude, nel senso che non sono splatter, non è un horror, però ci sono delle scene in cui comunque i crimini, le situazioni sono descritte abbastanza bene. Non lo ritengo disturbante, è così nel primo, come anche in questo caso, in questo libro qui. Non è una cosa esagerata, cioè non è disturbante, a me non ha creato problemi, insomma mi ha fatto venire la nausea. Però comunque è tutto ben descritto. E anche questo capitolo, appunto, come ho già detto, mi è piaciuto un sacco. Edizioni giunti, io l'avevo acquistato su Vinted Usato, il prezzo mi sembra 6,90, quello originale. E ho dato comunque quattro stelline, perché per quanto mi sia piaciuto molto più del primo, non rientrerà tra i miei preferiti, anche se quello che sto leggendo adesso veramente fa wow. Quindi io per questa volta vi saluto di nuovo, vi ricordo Ascolta o muori, il primo era Muori con me, il terzo che sto già leggendo è Guarda o muori, e poi c'è anche il quarto che è Adesso muori, che devo recuperare perché il quarto non ce l'ho ancora in realtà. Niente, detto questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!